Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nei giorni scorsi a Corigliano Calabro ha approdata una nave con 913 migranti. Ebbene la polizia ha arrestato tre scafisti accusati di far parte di una pericolosa organizzazione. L'operazione è coordinata dalla procura di Castrovilla. Risentiamo Gianluca Pasqua. Bubacar Fofanà, Ismail Brima e Abdul Kamara hanno un nome e un volto tra i presunti membri di un'organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani dalla Libia all'Italia. Le loro foto sono state mostrate oggi in conferenza stampa, in questura a Cosenza, dal questore Conticchio, dal procuratore di Castrovilla, Rifacciolla, che ha coordinato le indagini partite subito dopo lo sbarco dei migranti avvenuto a Corigliano nelle scorse settimane. Dalla nave Reign della marina tedesca erano scesi 918, 200 circa i minori, poi sistemati all'hotel Sivaris. Ognuno di loro, ce lo ha raccontato Muammar, ha pagato agli scafisti dai 500 euro in su per imbarcarsi su un gommone e puntare verso le coste italiane. Ad organizzare il viaggio sarebbero stati anche i soggetti fermati dalla squadra mobile di Cosenza in collaborazione con i militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Corigliano e della Capitaneria di Porto. Fofanà sarebbe il promotore dell'Associazione per delinquere operante in Libia e avrebbe avuto il compito di contattare le persone provenienti dagli stati centrali dell'Africa interessate a entrare in Italia legalmente, concentrandole poi, o meglio, ammassandole in condizioni disumane, in un edificio nella sua disponibilità per attendere il giorno della partenza. Brima e Camarà sarebbero invece gli scafisti che hanno organizzato il viaggio utilizzando il gommone bianco salpato poi la sera dell'11 luglio dalla Libia e soccorso dalla REIN nel canale di Sicilia dopo cinque giorni di navigazione. I tre, rinchiusi nel carcere di Castrovillari, sono stati trovati in possesso di diversi telefoni cellulari, denaro contante e supporti informatici, posti sotto sequestro, per esserlo analizzati accuratamente al fine di estrapolare dati che potrebbero essere utili alle indagini. Riteniamo, con dati di fatto, che probabilmente, visto anche le reazioni a livello di comunità internazionale, ma soprattutto visto il cambio di atteggiamento dello Stato italiano, probabilmente hanno cambiato proprio modo di organizzare questi viaggi, di localizzare, di raggruppare le persone poi da trasferire in Italia. Era già immerso un mese fa, circa nel penultimo sbarco, ma oggi è ancora più consolidato questo discorso, perché abbiamo delle testimonianze che ci consentono di ricostruire la partenza, quindi la fase di organizzazione del trasferimento nelle zone, in questo caso di Zebrata, ma probabilmente ci sono altri porti della Libia da dove muovono questi gommoni, queste imbarcazioni di fortuna. Poi attraverso l'utilizzo di un GPS, persone a bordo della singola imbarcazione conducono il mezzo fino a un determinato punto, che è un punto di ritrovo dove trovano altre imbarcazioni, che evidentemente o sono partite prima o sono partite da altri posti, da altre zone. Dopo un'attesa di qualche ora interviene un'imbarcazione di appoggio che dà loro istruzioni sul da farsi e da lì a breve, in termini di un'ora, due ore, arriva l'imbarcazione grossa che poi si occupa del recupero di tutti quanti loro.